A Nino Cuciniello un pareggio che lascia la mare in bocca? Sì, una mano relativamente perché comunque è un campionato dove purtroppo nessuno ci ha regalato niente come noi ovviamente ce l'aspettavamo anche essendo l'unica squadra irpina ma purtroppo è il prezzo che paghiamo visto l'amicizia, visto il confronto che c'è tra le altre società, purtroppo noi andiamo in campi dove siamo costretti a fare battaglia per racimolare un punto e poi ti accorgi che lo stesso non è per gli altri, ma questa non è assolutamente una polemica, noi lo sapevamo che lottavamo contro tutto e tutti. A questo punto diventa fondamentale il prossimo scontro col Valdiano? Ma sì, sicuramente non bisogna perdere le tre trasferte, dobbiamo cercare di portare a casa almeno un punto in tutti e tre i campi.